I carabinieri della compagnia Piazza Verdi hanno dato esecuzione ad un'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere emessa dal GIP e il Tribunale nei confronti di tre indagati, ritenuti responsabili a vario titolo di rissa, lesioni personali, deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, tentato omicidio, detenzione e porto abusivo di arma da sparo. I fatti risalgono al 16 settembre 2019, quando in via Regina Bianca a Palermo nel quartiere Danisini vi fu una violenta rissa tra un gruppo di persone di due distinti nuclei familiari. Uno degli indagati, Davide Gargano, destinatario della misura cautelare, era rimasto a terra con gravi lesioni al braccio ad una costola alle ossa nasali e poco dopo come reazione ne era scaturita una sparatoria all'esito della quale erano rimaste ferite due persone del nucleo familiare Giordano, uno a tinto di striscio all'addome e l'altro Gianluca, destinatario della misura cautelare a tinto da diversi proiettili al femore e al polso. L'indagine, corroborata dalle risultanze dei rilievi scientifici eseguiti sulla scena del crimine, ha permesso di condurre la vicenda ad una vera e propria faida tra i due nuclei familiari Giordano e Gargano a seguito di un tamponamento tra un'autovettura condotta da Davide Gargano e uno scooter di proprietà di Gianluca Giordano. Antonino Gargano, fratello di Davide, detentore illegale di arma, avendo visto il congiunto soccombere alla violenta aggressione del nucleo familiare rivale, ha esploso diversi colpi all'indirizzo dei Giordano, rendendosi poi irreperibile nei giorni immediatamente successivi. Lo stesso si era presentato presso la caserma dei Carabinieri con l'avvocato il 19 settembre, tre giorni dopo i fatti.